ciao ciao allora se sei quella via di casa viene a fare un figlio con me no ok ok adesso mi taglierò le corde vocali oh yeah you're gonna skip me too cool yeah f**k off just go ahead and do it all right mageo ketchup o maionese se rispondi sbagliato la madonna dietro di te la tiro giù maionese ok resta su bah no però con l'anello mi faccio male niente siamo vestiti per halloween no però sembri uno di della twilight no sono il detective p oddio aspetta sembra un altro di una serie aspetta ha una sua serie il detective p quanti anni hai oddio guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava è vero peccato eh già no avevi visto il detective p hai bevuto se è proprio quello che sto facendo no no mi sembravi uno io sono uno sono già visto io sai qualche parte tu mi sembri uno di un film tipo non lo so si è vero potevo capire youtuber o altre roccia ma ma scambiato per tiktok o altre robe di un attore mai e poi non lo so tiktok sai tipo no sono sano sai tipo quegli attori americani che vanno a fare tipo militari e poi togna da una famiglia e abbracciano tutti e ha rischiato di morire tipo diecimila volte ehi figiolo vieni qua esatto bravissimo ehi campione facciamo un tiro a baseball basta preso preso in qualsiasi film più che altro volevo sapere se una delle due mi racconta una brazzerletta vai perché se ho appena chiesto se una delle due me la racconta mi ha detto vai ание vabbè da una bazzerletta Giorgio e conosci tutte tu si ma ora non mi viene in mente c'è nel senso come dai E' n'amico sono sotto pressione non riesco a pensare a una bazzetta Siete in due Ok ci sono litriamo Allora, cosa fa un elevante su un cavallo? O spiaccica? Cosa fa? L'elefantino! Questa non la sapevo Questa non la sapevo L'elefantino! L'elefantino! Questa cazzo è l'elefantino! Vabbè, dopo gli spiegagliela tranquillamente Fra un quarto d'ora Come fa un elefante ad entrare in una 500? Apre la porta Ah, bravo! Basta, non la sai Ok, ok, mi basta, mi basta Adesso posso schifare Vai L'altra arriva sempre in ritardo Oddio! Babbo! Mamma? No, come? No! No, come!